oggi si cambia si può si può vivere più semplicemente un esempio le procedure per le attività dell'edilizia saranno più veloci con la scia oggi si possono fare molte più cose inoltre le autorizzazioni durano di più e ottenere l'agibilità è più semplice si è il decreto del fare fai valere i tuoi diritti per aiutarci a semplificare partecipa alla consultazione online la scuola che i tuoi diritti per aiutarci a semplice per aiutarci a semplice per aiutarci a semplice